andiamo un po più nel tecnico mi aggancio a marco mazza proprio per parlare di misurazioni di misurazione degli sg dal punto di vista non sollecitato l'idea che al centro dei fattori sg è solo apparentemente semplice come poi ci ci spiegherà marco cioè le imprese hanno ovviamente maggiore probabilità di avere un successo e di generare dei rendimenti laddove creano valore per tutti i soggetti interessati dipendenti clienti fornitori incluso l'ambiente e quindi marco ero curioso di capire come kbis x può aiutare le aziende con gli sg e diciamo quali sono le indicazioni che si possono ottenere dal non sollecitato come ci posizioniamo diciamo che il dialogo si è spostato sul mondo online ormai è palese dalla pandemia in avanti ma anche prima e adesso con meta e le nuove evoluzioni del metaverso ancora di più quindi in tal senso ascoltare le conversazioni ascoltare il web diventa un fattore determinante per capire alcuni movimenti che poi vanno impattare la vita reale come la vita reale impatta alcuni movimenti sul sul web e sui social diciamo che c'è un flusso continuo e quindi è giusto ascoltarne entrambi i lati per farlo abbiamo deciso di fare un'analisi un'analisi che abbiamo condotto su circa 4 milioni di conversazioni a partire dal gennaio 2021 sulle tematiche esg è un'analisi di landscape per capire esattamente a che livello di maturità siamo attualmente siamo partiti analizzando le frequenze di ricerca sui sul web sui motori di ricerca è un indicatore molto interessante perché il primo atto quando un utente si avvicina per la prima volta una matematica solitamente ricerca su lo facciamo tutti prima ancora di esprimere una propria opinione o interagire con contenuti ed è interessante notare come effettivamente c'è un incremento sostanziale dei volumi di ricerca sui temi esg durante l'ultimo anno di quasi il 200 per cento con una crescita da 2017 in avanti è anche interessante analizzare chi sta cercando queste parole e perché ci sono due cluster identificabili il primo sono utenti che effettivamente conoscono già l'ambito e ricercano informazioni su fondi rating esg è strettamente collegato alle performance finanziarie anche assurmenti di investimento nuovi in tal senso ma come si può vedere da questi termini di ricerca c'è un nuovo pubblico che per la prima volta cerca questo cronimo questo significato al fine di capire cos'è e quindi questo secondo me è molto interessante da analizzare ci siamo poi spostati un pochino più in verticale questa volta sulle conversazioni e abbiamo capito quanto se ne parla ma soprattutto su quale categoria e questo è il primo dato secondo me è molto interessante perché quando si pensa a CSR e ESG a sostenibilità si pensa sempre a quello ambientale ma sul web e sui social oggi si parla molto di più delle tematiche sociali o almeno questo in italia come potete vedere la mappa un pochino a macchia d'olio in tutte le regioni sebbene poi la componente ambientale rimane al 42 per cento la corporate governance rimane ancora un argomento molto istituzionale legato un 10 per cento ma interessante analizzare anche il chi qui anche qui è estremamente interessante perché la maggior parte degli utenti appartiene alla categoria millennials e questo in tutte le categorie soprattutto in quella ambientale perché sai si pensa molto a Greta Thunberg alla Greta Generation, Wild Generation quando si parla di ambiente ma per adesso quell'ambito è ancora di dominio dei millennials almeno nel mondo digitale e la Gen Z sembra più attenta alle tematiche sociali invece dove la sua percentuale tende ad aumentare dove invece è bassissima per adesso in quelle di governance e di corporate governance. È molto interessante anche se passiamo alla prossima è di analizzare i sotto argomenti perché è chiaro per identificare queste tematiche è stato necessario considerare tante sottotematiche che compongono sia ambiente che sostenibilità che governance e poi siamo andati a stilare una classifica per capire quali sono quelle più chiacchierate e anche qui abbastanza interessante i diritti LGBTQ in Italia e quindi legati alle conversazioni su DDL e ZAN ma non solo predominano su tutto il resto e i grandi temi come il climate change esistono sono presenti ma in maniera minore rispetto a conversazioni su smart city nel senso di città sostenibile a misura d'uomo a opere legate al proprio contesto cittadino e questo secondo me è anche un dato un po' in controtendenza rispetto a quello che si può trovare solitamente. Ecco questa è un'analisi di landscape sicuramente può essere approfondita e post evento sicuramente possiamo condividervi del materiale più verticale anche su alcuni di questi sottodomini ma mi piacerebbe anche parlare di come si può utilizzare questa tecnologia per calcolare degli indici di reputazione e quindi renderla pratica non solo per comprendere un contesto ma anche per comprendere come un brand reagisce a queste tematiche. Abbiamo sviluppato un indice di reputazione che si basa su quattro diciamo tematiche legate alla reputazione in linea con le teorie di von Braun diciamo il padron un pochino della brand reputation. Abbiamo tenuto in considerazione la CSR nella sua matrice quindi di sostenibilità sia sociale che ambientale e poi anche le dimensioni ovviamente di prodotto di servizio quindi di fruizione di giudizio di qualità di innovazione come capacità di innovare dell'impresa e di governance inteso come giudizi commenti conversazioni sulle decisioni prese dalle aziende. Sulla base di questo abbiamo realizzato un repindex l'abbiamo applicato su diversi brand e questo è un esempio molto interessante perché rappresenta una crisi di CSR che è possibile anticipare e leggere e interpretare. Tyson Food non è famoso in Italia ma è famoso molto in America distribuisce la maggior parte dei prodotti di carne soprattutto di carne bianca negli Stati Uniti con diversi milioni di distribuzioni ogni settimana e fu colpito pesantemente dal Covid. Una delle aziende che fu colpita di più e fu accusata di non rispetto delle norme di sicurezza soprattutto legate a una minoranza del proprio pubblico di lavoratori che apparteneva appunto alla minoranza etnica principalmente ispanica e quindi fu pesantemente colpito e l'indice fu in grado di captare questo abbassamento della reputazione e anche la dimensione. Se passiamo alla prossima slide questo è molto interessante perché si può leggere le dimensioni. una crisi che chiaramente dall'emotion analysis risulta evidente sia paurosa, pesantissima, tutto è conversato, tutto era negativo alla maggior parte, comunque a livelli dell'oltre l'85% con moltissima rabbia, un'emozione che di solito è presente ma è inferiore al disappunto di molto perché la rabbia è molto forte e di matrice CSR soprattutto. Il brand poi è riuscito a recuperare la situazione con un'ottima comunicazione di recupero soprattutto anche investendo molto aiutato anche dall'istituzione in questo caso, infatti i livelli di reputazione poi si sono un pochino assestati e migliorati nel tempo. Però sicuramente questo è un caso di come le tecnologie di digital consumo di intelligence possano leggere questi fenomeni perché la crisi è nata diciamo nel mondo reale ma poi si è evoluta e è stata discussa praticamente solo nel mondo digitale perché in quel momento esisteva solo internet perché tutti eravamo chiusi in casa praticamente, quindi è un esempio molto interessante. Grazie a tutti.